Ciao Ale, ti stiamo aspettando! I video dei colleghi, messaggi degli amici e decine di telefonate stanno tenendo compagnia ad Alessandro Baldini, 38 anni, consulente pubblicitario e noto DJ di Mondolfo, che da lunedì scorso è ricoverato nel reparto di cardiologia all'ospedale Santa Croce di Fano. La sua disavventura è iniziata il sabato precedente, quando ha ricevuto la seconda somministrazione del vaccino Moderna. La sera ha iniziato ad accusare brividi e malessere, si è misurato la temperatura con un termoscanner e ha scoperto di avere 38,5 via di Tachiperina e al lavoro anche il giorno dopo ad un altro matrimonio. La notte però è iniziato il calvario, verso le tre infatti si è svegliato con un forte dolore al petto. Il suo medico di base gli ha detto che doveva recarsi subito al pronto soccorso e così ha fatto. Dopo tutti gli accertamenti, tra tamponi, analisi del sangue, più risonanze e Tach, è arrivata la diagnosi, una miocardite legata al vaccino. Tanta la rabbia del giovane che ha sempre mantenuto lo spirito che lo contraddistingue, come si nota, nei post pubblicati sui social. Alessandro, come sta? Ha avuto un bello spavento? Eh sì, eh sì, purtroppo stavo meglio prima. Sa nulla delle sue dimissioni? Purtroppo delle mie dimissioni ancora non so nulla, anche perché il primario, il dottor Rocchi, non si è voluto sbilanciare e quindi al momento so solo che dovrò rimanere qua almeno un paio di settimane. Perché la tengono costantemente sotto controllo ancora? Esatto, sono costantemente sotto osservazione, ho qui un monitor che praticamente mi segue tutti i passi che fa al mio cuore, la situazione dei battiti e tutto quello che riguarda il discorso cardiaco. E poi sto facendo una cura per quello che riguarda invece i valori del sangue, l'omoglobina e anche il discorso dell'infiammazione della miocardite in sé per sé. Inoltre Alessandro continua a prendere il cortisone in compresse e tutta la documentazione medica è stata inoltrata all'Agenzia Italiana del Farmaco. Ancora incredulo per quanto successo, il 38enne evidenzia una scarsa informazione sulle possibili conseguenze del vaccino. Un effetto collaterale che ti va a rovinare irreparabilmente l'apparato del cuore, io penso che non sia un effetto collaterale ma sia più un danno. Nessuno mi aveva detto che dovevo fare un siero logico per capire il mio stato immunitario. E valutare di conseguenza se procedere con la seconda dose. In questi giorni Alessandro si è anche informato su quante siano state le reazioni avverse. Ma mentre i dati pubblicati dal Ministero della Salute italiano sono fermi al mese di maggio, il sito americano è aggiornato al 19 agosto. E rende noto che su un campione di 1377 segnalazioni di miocardite, per 780 è stata accertata una correlazione con il vaccino. Ha intenzione di intraprendere delle azioni legali o quantomeno lanciare un appello alle istituzioni? Io vorrei fare uno e l'altro, sicuramente lanciare un appello più che alle istituzioni e anche alle persone comuni come me, che devono aprire un po' gli occhi, non andare direttamente a fare un vaccino così a occhi chiusi, perché con il cuore non si scherza e bisogna informarsi bene. Purtroppo l'informazione ce la dovrebbero dare gli organi competenti, non ce lo danno, non capisco perché non lo danno queste informazioni e quindi dobbiamo informarci noi. Informandoci dobbiamo capire se il nostro corpo può assorbire la seconda dose, perché la seconda dose è molto più potente della prima. Dobbiamo stare attenti. Ieri abbiamo trasmesso una breve intervista del direttore sanitario di Marche Nord, Edoardo Bersele, che ci ha anticipato alcune informazioni sul suo stato di salute. Le ha ascoltate? Sì, le ho ascoltate, le ho ritenute molto molto superficiali, perché sono state dette in modo molto frettoloso. Il signor Bersele gli vorrei dire che io sì, sto bene, sono migliorato e tutto, ma mi sono fatto anche i primi giorni di cura ben nove ore di flebo, ho fatto tante analisi, ho passato due o tre giorni veramente da incubo, e dire subito, è stato bene, subito, così, semplicemente, io vorrei vedere se suo figlio era stato male, come sono stato male io, ci avrebbe parlato nello stesso modo, perché non è giusto stare in una stanza di ospedale per aver fatto un bacino, quindi per aver fatto una prevenzione per gli altri, per me stesso, e poi ritrovarmi all'ospedale. Non è giusto, bisogna che le istituzioni si prendano la responsabilità di queste cose, assolutamente. Grazie.